E pace economica in Asia, o almeno così sembra. Cina e Corea del Sud hanno firmato un accordo di libero scambio che eliminerà le tareffe doganali sul 90% dei beni scambiati fra i due paesi. Al siglare alla decisione due presidenti, il cinese Xi Jinping e la sudcoreana Park Geun Ye. Nel 2013 gli scambi tra i due paesi sono stati di circa 183 miliardi di euro. Le esportazioni dalla Corea del Sud alla Cina sono di circa 117 miliardi, ovvero un quarto delle esportazioni totali. Ovvia la soddisfazione della confindustria sudcoreana, che immagina davanti a sé l'apertura di sconfinate prateria di nuovi mercati. Il portavoce immagina che Pechino sarà un enorme volano per l'economia di Seoul. Ma non tutti sono entusiasti. Il comparto agricolo è terrorizzato dai bassi costi di produzione cinese che potrebbero distruggere i proventi sudcoreani. Da qui molte manifestazioni di critica sull'accordo. Questo mentre la Cina ha firmato anche un accordo energetico con la Russia. E per dimostrare al mondo che non esistono solo gli Stati Uniti, il presidente Putin si è augurato che sempre più scambi commerciali siano in Rubli e Yuan, perché il centro del mondo non siano più gli USA, ha detto il capo del Cremlino.